Municipio di Augusta, parliamo con la commissaria dottoressa Cucciu, fa riguardo a una conferenza di lavoro che si è svolta pochi minuti fa e riguarda il distretto socio-sanitario Augusta Medilli. I progetti che sono finanziati dalla regione e che soprattutto concernano sia l'occupazione, sono molti disoccupati da Augusta, sia i disabili. Quindi rientra questa domanda nell'ambito della cooperazione fra Municipio di Augusta e quello di Medilli e l'ASP di Siracusa, giusto? Allora, stamattina si è riunito il nuovo gruppo piano, che è un organismo previsto dalla legge 328 e contemporaneamente ci siamo riuniti come comitato dei sindaci, di cui fa parte anche l'ASP, appunto come dicevamo prima, nella persona del dottore Spina. Il gruppo piano ha in pratica approvato la nuova progettualità relativa alla legge 328, per cui sono previsti alcuni finanziamenti regionali che vengono appunto dati ai distretti socio-sanitari ed è stato anche definito l'utilizzo, l'impiego di somme non spese nella precedente riennalità. E' chiaro che gli ambiti di attenzione riguardano un po' i settori tradizionali, che sono quelli dell'assistenza agli anziani e ai disabili, con particolare riguardo all'assistenza nelle scuole, che è un compito assolutamente prioritario. C'erano anche rappresentanti, mi pare, di due scuole comprensive? Perché di questo gruppo piano fanno parte una serie di istituzioni e componenti del cosiddetto terzo settore, proprio perché nella redazione del piano, quindi di questi progetti, si tiene conto di quelle che sono effettivamente le esigenze del territorio. E chi è meglio delle istituzioni scolastiche, organizzazioni sindacali, rappresentanti del cosiddetto terzo settore, è in grado anche di fornire le indicazioni, come dire, pertinenti rispetto a quelle che sono le necessità della comunità. Da un punto di vista operativo cosa si prevede allora? Allora, adesso il passaggio successivo ci sarà un'altra, una sorta di conferenza di servizi, sarà presentato il piano la prossima settimana anche alla città, quindi faremo una sorta di momento pubblico. Dopodiché ci sarà un'approvazione in giunta, come giunta sia di Augusta che di Melilli, e poi tutti gli atti andranno a Palermo per avere l'approvazione e il finanziamento.